Il calciatore, Graziano Pellè, ha firmato per un club cinese, che lo pagherà 38 milioni, in due stagioni. Sinceramente, non capisco il motivo, di pagarlo così tanto, dal momento che non è un fenomeno, e personalmente non lo reputo un giocatore da pagare in questo modo. Il suo stipendio annuale sarà simile a quello di Messi e Ronaldo. Il paragone con questi due fenomeni, non esiste neanche. Andando a, giocare in Cina, ha fatto svanire ogni minima possibilità che gli rimaneva, di giocare ancora per la nazionale italiana. In fondo, penso che non sarebbe stato più convocato anche se fosse rimasto al Southampton, dopo le cose viste agli europei di calcio del 2016. La sua, quasi sicuramente è stata una scelta decisa dall'enorme somma di denaro offerta al giocatore. Magari, allontanandosi dalla nazionale italiana di calcio e dal campionato inglese, tra due anni ci saremo già dimenticati di lui. I soldi, sono tutto nel mercato calcistico, questo lo dimostra Miralem Pianic, che è passato dalla Roma alla Juve. Comunque sia, ora vorrei parlare del gesto compiuto da Pelle agli europei, mentre si trovava sul dischetto di fronte a Noyer. Per chi non se lo ricordasse o non lo avesse visto, Pelle ha deriso Noyer in Mondovisione, mi mando il gesto del cucchiaio. Reputo che questa sia una cosa gravissima, soprattutto se poi sbagli il rigore calciando la palla fuori. Complimenti, perché, una figura del genere, non era facile da realizzare. Io ci tengo a precisare che non accuso il rigore sbagliato, ma il gesto prima di batterlo. So benissimo che se quel rigore fosse entrato, Pelle ora, sarebbe un fenomeno, ma non è andata così. La storia non si fa con i se, e con i ma. Il rigore è stato sbagliato e quindi il risultato è questo. Non ci sono scusanti. Io pensavo che si fosse scusato seriamente, perché scusarsi con un post di Facebook non ha senso. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video.